Antonella Clerici è il personaggio televisivo dell'anno e con il suo look eccentrico e scenografico stupisce. In più non risparmia mai ammiccamenti e una divertita sensualità. A Vero confessa di sedurre il suo Eddie Mertens con una sola goccia di profumo addosso. Credo che le donne debbano mantenere la loro femminilità e il loro fascino sempre, quindi cerco di avvicinarmi allo stile di dita fontis. Mi piacciono tantissimo i colori vivi perché danno luminosità al viso e alla persona nella sua interezza, dice la Clerici. Come non ricordare le sue piume, paillette e gli abiti coloratissimi usati a Sanremo? Nella vita di tutti i giorni preferisce un look più sobrio perché Eddie mi ama vestita in jeans semplice ma curata nei dettagli, oppure con addosso solo una goccia di Chanel numero 5, scherza Antonella. Grazie a tutti!